Il turno infrasettimanale di Serie D valido per la dodicesima giornata di andata al Martoni è sfida tra la seconda e la terza forza della classifica. Il Monterosi recupera Farasca in estremis e lancia il neo arrivato Giudici dal primo minuto dopo il gol di Freggeni al debutto. Nella Nusei in campo l'ex Nannini, mentre in panchina gli altri due ex della giornata Quadrana e Rausa. La squadra di Mariotti parte forte con due conclusioni nel giro di tre minuti, quella di Mastrantonio al primo fuori di poco e quella di Gerevini al terzo che impegna la Gorga alla parata. Al minuto 11 il Monterosi trova la via della rete ma Gerevini viene pescato in posizione di fuorigioco. Al diciassettesimo altra rete annullata al Monterosi, taglio eccezionale di Mastrantonio per l'inserimento di Rasi che trafigge la Gorga, decisione molto discutibile quella adottata da Pascariello di Lecce. Solo una squadra in campo nei primi venti minuti in questa prima parte di gara al diciannovesimo percussione di Giudici fermato in uscita da La Gorga. Al minuto 21 questa volta è Lanusei a vedersi alzare la bandierina del fuorigioco al gol di Congio sugli sviluppi di una punizione di De Montis. Al 34esimo grande occasione per il Monterosi, taglio orizzontale di Gabbianelli per Noman che manca clamorosamente l'impatto con la sfera. Finisce a reti bianche un primo tempo gradevole tra Monterosi e Lanusei. La ripresa ricomincia ancora con un dubbio episodio arbitrale sull'azione di Gabbianelli viene atterrato in area Gerevini. La palla scivola a Mastrantonio la cui conclusione viene neutralizzata dall'estremo difensore della Nusei. Il vantaggio però del Monterosi arriva appena un minuto dopo ed ancora l'italo-albanese Ador Giudici già decisivo al debutto tre giorni fa a Freggene con un sinistro fulminante brucia alla Gorga e fa 1-0. Reazione Lanusei con Sicari che al sedicesimo impegna Frasca alla parata a terra. 23 minuti della ripresa, bello scambio tra Gabbianelli e Giudici che serve Noman, il destro del numero 9 bianco-rosso viene deviato in angolo. Alla mezz'ora l'episodio che fa discutere, Monterosi rimane in 10 per un fallo da ultimo uomo di Gasperini su Sicari. Sull'insidiosa punizione di Ladu però Frasca è bravo a respingere. Mariotti corre ai ripari con quattro cambi nel giro di due minuti. Valentini, Giannetti, Proia e Pellacani prendono il posto di Gabbianelli, Giudici, Gerevini e Francescangeli. Al trentasettesimo brivito per i padroni di casa ma il tiro dell'attaccante Sardo sfiora il palo. Nei cinque minuti di recupero l'Anusei prova l'assedio finale ma l'area di rigore è terra di Valerio Frasca. Il Monterosi porta a casa il settimo risultato utile consecutivo che vale la vetta della classifica con 26 punti al pari del Trassevere.